Un cordiale saluto a tutti, benvenuti su ZNFX Official, il canale dedicato al mondo del trading. Anche oggi siamo qui per presentarvi un corso di formazione assolutamente gratuito per tutti con uno dei formatori più apprezzati d'Italia. Allora diamo subito il benvenuto al nostro ospite, salutiamo Cristian Di Stefano. Ciao Cristian. Ciao Michele, come sempre un piacere, grazie. Eccoti, pimpante come sempre, pimpante più che mai dal ritorno dalle tue vacanze estive che sono andate molto 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 bene. Allora Cristian andiamo subito a vedere quello che è l'argomento che stiamo presentando in questo video. Allora eccolo qua in sovrimpressione, come vedete 5 lezioni assolutamente gratuite che partiranno il 9 di settembre e termineranno venerdì 13 settembre. 5 lezioni, vi dicevo, dalle 21 alle 22 in questi 5 giorni con come protagonista il nostro formatore Cristian Di Stefano che appunto ci preparerà e vi preparerà soprattutto ad affrontare in modo indipendente quelle che sono le challenge delle prop firm CFD. In effetti come vedete in sovrimpressione il corso ha come titolo alla radice del mercato, capire le conseguenze per prevedere chiaramente le conseguenze e conquistare le prop firm. Allora Cristian parlaci un po' di questo corso, quali saranno gli argomenti che tratterai all'interno di questo corso? Saranno molteplici in realtà e ci focalizzeremo su cose un po' poco trattate ma secondo me veramente importanti che sono coloro che mi permettono ad oggi di trarre profitti dai mercati che sono appunto le cause. Quindi per riassumere diciamo in maniera semplicistica un po' quello che è il mio protocollo è basato su studiare le cause non le conseguenze. Quindi facciamo un banale esempio. Il mercato se noi ci pensiamo spesso iniziamo ad articolarlo guardando magari quelle che sono analisi tecnica fondamentale, volumetrica che io non ho nulla a incontrare contro queste, anzi sono molto utili, ma spesso non riusciamo a comprendere la causa di un movimento che se ci interroghiamo dall'esterno è molto semplice in realtà, vale a dire il denaro. Il denaro è ciò che muove i mercati finanziari e quindi bisogna risalire a dove si trova quel denaro insieme ad altre mille cause ma comunque basate sul capire qual è la causa di ogni movimento. Quindi come dico sempre non guardiamo con gli occhi, non ascoltiamo con le orecchie ma ci basiamo su quello che è uno studio profondo di seguire il mercato piuttosto che cercare di prevederlo. Perfetto, allora come avete potuto capire da queste prime battute di presentazione di Christian un corso davvero a 360 gradi, un corso intensivo oserei dire, Christian ecco corso adatto a tutti o no? Allora sì nel senso in generale è utile veramente a chiunque, partiremo da aspetti molto semplici andremo anche a capire la storia dei mercati finanziari prima di partire magari ad addentrarci appunto in quello che magari è l'operatività o cose di questo tipo. Detto questo magari una piccola base dei mercati finanziari quindi sapere insomma che cosa è una candela giapponese, che cosa è un pip quindi cose diciamo molto banali che si possono tranquillamente trovare su YouTube per prepararsi al meglio diciamo ai corsi. Perfetto, quindi ecco non lasciatevi scappare questa grande opportunità che Christian Di Stefano con Zenefx mettono a vostra completa disposizione allora andiamola a vedere insieme in maniera molto semplice come si fa per accedere a questi corsi vi ricordo assolutamente gratuiti, 5 lezioni che vi ricordo partiranno esattamente lunedì 9 di settembre termineranno venerdì 13 settembre a partire dalle 21 alle 22 tutti questi 5 giorni con Christian allora vi dicevo andiamo a vedere in che maniera appunto si può accedere in maniera assolutamente gratuita a questi corsi ecco lo vediamo in tempo reale sul nostro sito zenefxofficial.com nella sezione dedicata a corsi trading andiamo su corsi trading live lo facciamo in presa diretta ecco qui trovate la sezione dedicata appunto a questi corsi gratuiti di Christian Di Stefano basta cliccare scopri di più e andremo direttamente all'interno di questa pagina ecco e all'interno di questa pagina andate a sbloccare il corso cliccando questo pulsante 20 verde e il gioco è fatto allora continuiamo a parlare Christian di quelli che saranno gli argomenti abbiamo visto nella lezione numero 1 qual è la causa, come si muove realmente il mercato lezione numero 2 leggere tra le redighe la storia dei mercati finanziari sì esatto leggere la storia dei mercati finanziari nel senso che prima di partire realmente a fare trading spesso ci sono tantissimi argomenti molto fraintesi in Italia soprattutto all'estero un po' meno ma questi argomenti sono fondamentali vale a dire le basi perché le basi non sono ciò che realmente le persone pensano oggi siamo inflazionati di informazioni grazie a YouTube, ai media, eccetera, eccetera e spesso è difficile fare ordine mentale capire realmente cosa abbiamo bisogno per il nostro percorso e io dico sempre partire dalla storia dei mercati prima di andare a testare strategie fare backtest o cose un po' più tecniche è fondamentale per capire realmente come altre persone sono riuscite a capire prima di noi delle cause importanti quello che appunto andremo a vedere sulla base di questi argomenti è come leggendo tra le righe di alcuni testi magari molto vecchi o comunque persone di un certo calibro che hanno creato concetti basati su causa in realtà sono malinterpretati quindi estrapoleremo quello che è la lettura di queste righe diciamo di questi testi tramutata poi ai nostri test portandoli ad oggi per capire realmente come basarsi sulle cause di mercato perfetto continuiamo allora a leggere quelli che saranno ancora gli argomenti trattati oltre appunto a leggere tra le righe la storia dei mercati finanziari si parlerà anche di prezzo, tempo e volume il rischio rendimento corretto di mercato e poi come costruire un business plan di successo nel trading ecco Cristian ti chiedo di non spoilerare molto perché so che stai già andando da molte molte informazioni ti chiedo soltanto di dare un consiglio appunto a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo per invogliarli ecco a seguire queste cinque lezioni vi ricordo assolutamente gratuite per tutti Cristian allora un consiglio cosa dire allora è un percorso veramente semplice completo che vi aprirà la mente da zero quindi con un pizzico di basi riuscirete a comprendere realmente come un mercato si muove e ad avere una visione completamente diversa di qualsiasi strategia che da dopo il corso a vita vedrete quindi riuscirete come dire a capire come implementare le cause su qualsiasi strategia che apprenderete e riuscirete appunto a avere quella che è una direzione precisa di mercato quindi a ipotizzare nella maggior parte dei casi quello che è un buy o un sell quindi una direzione appunto rialzista o ribassista del mercato perfetto e allora come avete potuto sicuramente intendere ci sono davvero tante tantissime nozioni che potrete fare vostre basta soltanto appunto iscrivervi alle cinque lezioni assolutamente gratuite che terrà Cristian Di Stefano ricordiamolo dal 9 di settembre al 13 di settembre dalle 21 alle 22 cinque giorni con tutti questi argomenti che stiamo ancora vedendo in sovrimpressione e allora ecco non lasciatevi scappare questa grande opportunità che ZenFX e Cristian Di Stefano mettono a vostra completa disposizione bene Cristian il tempo a nostra disposizione è scaduto io ti ringrazio per essere stato con noi ci vediamo alla prossima presentazione di altri corsi firmati Cristian Di Stefano grazie mille Michele ciao a tutti ciao Cristian grazie per essere stato con noi e allora rivediamolo ancora una volta per appunto tutti coloro i quali fossero interessati potete iscriversi alle cinque lezioni che presenterà Cristian Di Stefano eccolo qui il nostro sito ufficiale zenfxofficial.com nella sezione corsi trading live appunto cliccate all'interno di questa tendina troverete questa sezione dedicata appunto alle cinque lezioni di Cristian scopri di più e poi basta cliccare sblocca il corso e le cinque lezioni saranno assolutamente vostre ricordatelo dal 9 di settembre al 13 di settembre Cristian Di Stefano vi presenterà appunto questo corso alla radice del mercato capire le cause per prevedere le conseguenze e conquistare le PropFirm CFD bene è tutto per oggi io vi ringrazio per essere stati con noi ci rivediamo alla prossima presentazione di altri corsi firmati zenfx un saluto a tutti e buona formazione grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.